C'è un nuovo caso da scoprire E' il momento di indagare Sì Benvenuti in questo nuovissimo mistero Che andremo a svelare Visto che noi ho deciso di iniziare una nuova serie Ovvero a caccia di misteri su Fortnite Siamo degli ottimi ricercatori Con il nostro bellissimo Whiskey Che in realtà è stato alla pesca Oggi andremo a svelare Cercare di scoprire cosa ci sta nascondendo La Epic Games Spero che questo video vi piaccia Che questa nuova ricerca vi piaccia Cosa ci nasconde la Epic Games Secondo me qualcosa ci nasconde E vi farò vedere anche le mie supposizioni Sì, giusto Butterai proprio al centro di Bosco Blaterante Attenzione Al centro Perché con l'aggiornamento della stagione 6 Se magari Sì Hanno aggiunto una cosa E ora vi spiego cosa hanno aggiunto Vi spiego tutto quello che ho da dirvi Ma lì c'è una cosa nuova O sbaglio Hanno modificato totalmente Il centro di Bosco Blaterante Però Come vedrete C'è Un Un cancello Ha cambiato tutto Secondo me Qui sotto c'è qualcosa Cioè giustamente Lo so già che c'è qualcosa Però E' la per farvi capire Per fare la cosa Sunspens Musica da Sunspens Da ricercatore Siete pronti? Si va Ok Praticamente Siamo in un centro Di ricerca Dove Stanno studiando Al piano di sotto Se non sbaglio Le fratture Dove erano? Aspetta No Piccolo fail Dove sono che stanno studiando le fratture? L'avevo vista Ecco Come vedete Qua c'è Un macchinario Che si può rompere Qualche studio Una frattura Però Praticamente qua c'è soltanto questo qua E' pieno di casse E qua c'è soltanto questo qua Però Quello che mi fa strano a me Anzi Vorrei sapere una vostra opinione Nei commenti Se vi va Che ci sono questi tunnel qua Scommetto Che questi tunnel qua Non sono fatti a caso Ci sono pronto a scommettere Non sono Non c'è nulla Perché se si rompe C'è il muro Vedete C'è il muro Non si può rompere sto muro E' già una cosa strana Che non si possa rompere Vuol dire che ci stanno provando A nascondere qualcosa Vedete Proprio No no Non si può fare niente Non si può fare niente In tutti questi Ma forse l'unico che si salve è questo qua Forse Esatto Perché tu praticamente Sbucchi di qua Sbucchi di qua Questo qua Però vedete che si doveva far rompere Sono tutti così Che si rompono tutti Direi di andare appena di sopra Cioè di uscire proprio qua E farvi vedere Secondo me Cosa possono fare Cioè cosa secondo me Hanno in mente di fare Attimo Sto cercando l'uscita Che qua è un posto gigantesco Eh Aspettate L'uscita Potevano mettere un cartello exit Forse alcuni di voi Hanno già capito Cosa sto andando a cercare Tanto hanno tolto le I cubi Come mai hanno tolto i cubi Perché li hanno tolti Cosa vogliono nasconderci Li tolgono così Vuol dire che qualcuno Ha visto qualcosa Qualcuno ci è riuscito Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Soltanto in alcuni punti Ti fa rompere Se ci fate caso Tipo qui Vedete Picchiando Sembra che Qualche danno lo faccia Proviamo un po' A picchietare forte Sempre Ma la cosa che ci fa Salire il dubbio Che qua Hanno aggiunto qualcosa Se ci fate caso Sembra che ci sia Il muro Che di fatto Della stessa Dello stesso materiale Che È fatto Quello che blocca Di là I tubi E Si vede Una stradina Con erba Secondo me Ci stanno mettendo qualcosa Ora Punta verso di qua E Verso di qua Sinceramente Non c'è niente Ma posso capire Se puntava Verso di qua Che magari C'era qualcosa Però Punta verso di qua Oh Oh Stanno aspettando L'arrivo di qualcosa O di qualcuno Magari Chi lo sa Perché In effetti Mi sembra molto strano Si vede Secondo me C'entra Il collegamento Che abbiamo visto A bosco Perché non è impossibile Cioè noi siamo qua Ci sono i tubi Che fanno più o meno Da tutte le parti Possono fare una cosa così E vanno ad angolo Su non su Potrebbero farlo Per questo Non capisco Perché ci sono quei Quei Tubi bloccati Cioè Quei ingressi bloccati Ed è molto strano Una cosa che si può provare a fare È andare col drone Ora io devo abbandonare La partita Andare nel replay E cercare di provare Ad andare col drone Intanto Beviamo un sosto Di finto whisky Ghiacciato Dovremmo essere Eccoci qua Siamo nella scremata Ora io devi mettere Il drone Vediamo un po' Se magari tramite La fessura Si riesce a vedere Tipo qualcosina In più Non si Foglie Io direi che si Sono foglie Quelle Se si vede qualcosina No mi sembra Però vedete che c'è Tipo Un muro Secondo me Questo muro qua Può portare Da qualche altra parte Non sono riuscito Quello che volevo fare Ovvero cercare di Entrare dentro Proprio dentro Col drone Però a quanto pare Sono fatta da furbi Giustamente Ora voglio vedere Se tipo Messo da di qua In questa angolazione Qua Si vede qualcosa No Non si vede niente Si vede di nuovo L'erba No Non c'è nulla Di interessante Allora Mettiamo il drone Secondo me Qualcosa ci nascondono Quella delle Epic Games Fatemi sapere Vedete qua c'è il tubo In mezzo al tubo Mi fa vedere Ai lati Magari No eh Ai lati Non mi fa entrare Sopra cosa c'è Per caso Posso andare sopra Sopra giustamente Mi manda a piano di sopra Ok niente Qua Ci sarà qualcosa Me lo sento A piano di sotto No A piano di sotto Niente Non mi fa Esaminare niente Vabbè ragazzi Io I tentativi che ho fatto Che avevo a disposizione Le ho fatte Fatemi sapere magari La vostra idea Se siete come me Che secondo voi Dite che Secondo me C'entra qualcosa Questi tunnel qua Con quello che abbiamo visto là Fatemi sapere voi Nei commenti Vi ringrazio per la visione Ascettate un bel pollice in su Commentate Condividete Arriveranno altri misteri Noi ci vediamo Dopodomani O domani Con un nuovo video Non si sa Attivate la campanellina Ciao ciao Benvenuti In questo nuovissimo In questa nuovissima Benvenuti In questa Nuovi O se Benvenuti In questo Nuovissimo Non so come Coniugare il verbo Posso confermare C'è la bottiglia qua È là per fare La clip iniziale Però Sono i segreti Che non si dovrebbero dire Però Divertente Non so come Non so come In questa nuovissima